Nella nostra ricerca alla conquista del cosmo, la velocità della luce rimane un concetto intrigante ma sfuggente. La velocità della luce, costante a 299.792 km al secondo, è il limite di velocità dell'universo secondo la teoria della relatività di Einstein. È un muro imponente che sfida le nostre ambizioni di esplorazione interstellare. In questo video esploreremo alcuni metodi teorici che sfidano questa barriera, esplorando concetti di meccanica quantistica, materie esotiche e persino viaggi nel tempo, per proporre intriganti possibilità di viaggi più veloci della luce. Il motore a curvatura, piegando il tessuto dello spazio-tempo, cerca di superare la velocità della luce. Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, gli oggetti massicci distorcono lo spazio-tempo generando gravità. Nel 1994, il fisico Miguel Alcubierre propose un modello matematico per questo concetto, l'unità Alcubierre Drive, ora chiamata Alcubierre Drive. Si propone di creare una bolla di distorsione attorno a un'astronave, permettendole di muoversi più velocemente della luce senza violare le leggi della fisica. Tuttavia, la spinta di Alcubierre deve affrontare sfide significative. Richiede energia negativa o materia esotica, sostanze teoriche la cui esistenza non è stata confermata. Inoltre, il fabbisogno energetico è enorme e sorgono problemi come violazioni della causalità, paradossi temporali e forze di marea distruttive. Nonostante queste sfide, la ricerca sulla tecnologia di propulsione a curvatura continua, spinta dalla possibilità di superare istantaneamente le distanze, i progressi nella fisica quantistica, nell'energia oscura e nella materia esotica fanno sperare che questo concetto possa diventare una realtà, scientifica in futuro. Si ipotizzano wormhole, prendendo scorciatoie attraverso lo spazio, sull'autostrada cosmica. Scorciatoie teoriche che collegano regioni distanti dell'universo. Questi tunnel potrebbero consentire viaggi interstellari e intergalattici senza superare la velocità della luce. I wormhole deriverebbero dalla curvatura dello spazio-tempo, secondo le equazioni della relatività generale. Questi buchi sarebbero come ponti nella quarta dimensione, collegando punti nello spazio tridimensionale. Anche se dalla nostra prospettiva sembrerebbe un salto istantaneo nello spazio-tempo, non supererebbe la velocità della luce. Tuttavia, la stabilità dei wormhole presenta problemi. I wormhole naturali sarebbero instabili e collasserebbero rapidamente. Mantenere aperto un wormhole richiederebbe materia esotica con proprietà insolite, la cui esistenza non è ancora stata dimostrata. La creazione di un wormhole richiederebbe la manipolazione delle singolarità e la gestione della gravità quantistica, non ancora del tutto compresa. Anche esplorarli sarebbe una sfida, perché potrebbero portare a luoghi o tempi molto diversi e persino a universi diversi. Inoltre, ci sono molteplici universi e rischi quando si passa attraverso un wormhole, come la possibilità di feedback e distruzione del buco e degli oggetti che lo attraversano. Nonostante le sfide, la ricerca sui wormhole continua, perché offrono affascinanti possibilità di viaggio e l'opportunità di unire la relatività generale con la meccanica quantistica, il che ci aiuterebbe a comprendere meglio l'universo nel suo insieme. Entanglement quantistico L'entanglement quantistico è un fenomeno intrigante nella meccanica quantistica che consente una connessione, istantanea tra le particelle, indipendentemente dalla distanza tra loro. Sebbene sembri sfidare la velocità della luce, il suo utilizzo per viaggi o comunicazioni più veloci deve affrontare ostacoli significativi. L'entanglement quantistico è stato verificato sperimentalmente ed è una parte consolidata della teoria quantistica. Sebbene sia stata sollevata la possibilità di utilizzare l'entanglement per la comunicazione istantanea o il teletrasporto quantistico, ci sono limitazioni importanti. Innanzitutto, l'entanglement non consente il classico trasferimento di informazioni, p che gli stati quantistici entangled non sono leggibili finché non vengono misurati, e i risultati appaiono casuali. In secondo luogo, la misurazione o la manipolazione di un sistema quantistico in genere fa collassare l'entanglement, rendendone difficile il mantenimento su lunghe distanze. Infine, il teorema di non comunicazione nella meccanica quantistica afferma che è impossibile trasmettere informazioni, classiche attraverso un canale quantistico. Sebbene l'entanglement quantistico abbia applicazioni nell'informatica quantistica e nella crittografia, la sua utilità per viaggi o comunicazioni a velocità superiori alla luce è altamente improbabile in base, alle nostre attuali conoscenze. Sebbene affascinante per comprendere il mondo quantistico, la sua applicazione pratica a questo riguardo deve affrontare sfide insormontabili. Tacchioni ipotetici, i tacchioni sono particelle ipotetiche che potrebbero viaggiare più velocemente della luce. Il suo nome deriva dalla parola greca tachis, che significa veloce. Secondo la relatività ristretta e la teoria quantistica dei campi, i tacchioni hanno proprietà peculiari. A differenza delle normali particelle, chiamate fermioni, che richiederebbero energia infinita per raggiungere la velocità della luce, i tacchioni richiederebbero energia infinita per ridurre la loro velocità a quella della luce. Questo perché viene loro attribuita una massa immaginaria negativa. I tacchioni hanno comportamenti opposti alle particelle normali. Accelerano quando perdono energie e sembrano vivere il tempo al contrario dalla nostra prospettiva. Tuttavia, la sua esistenza solleva complicazioni e paradossi, come la violazione della causalità. Sebbene siano state cercate prove dell'esistenza di tacchioni per decenni, non ne è stata trovata alcuna. I fenomeni loro attribuiti in passato si sono rivelati errori sperimentali. La sua comparsa in una teoria solitamente indica instabilità. In breve, i tacchioni sono speculativi e non c'è consenso tra i fisici sulla loro esistenza. Sulla base della nostra attuale comprensione delle leggi della fisica, è improbabile che esistano particelle più veloci della luce. Tuttavia, se in futuro fosse dimostrato il contrario, sarebbero necessari cambiamenti fondamentali alle nostre attuali teorie. Energia negativa come carburante per viaggiare più veloci della luce, l'energia negativa. Un concetto intrigante della fisica quantistica e della relatività generale, potrebbe essere la chiave per viaggiare più veloci della luce. Sebbene l'energia negativa non esista nella fisica classica, nella meccanica quantistica è consentita a determinate condizioni. Un esempio di energia negativa è l'effetto Casimir, dove due piastre metalliche scariche subiscono una forza attrattiva dovuta alla presenza di energia negativa tra loro nel vuoto. L'energia negativa viene applicata nei viaggi più veloci della luce, come i motori a curvatura e i Wormul. Il motore di LQBR, ad esempio, utilizza l'energia negativa per creare una bolla di spazio-tempo deformato e muoversi a velocità superluminali. Tuttavia, l'uso dell'energia negativa presenta sfide significative. In primo luogo, la produzione e la stabilizzazione di una quantità significativa di energia negativa a lungo termine è attualmente irraggiungibile. Inoltre, la sua esistenza solleva preoccupazioni sulla violazione delle condizioni energetiche fondamentali e sulla possibilità di effetti paradossali, come i viaggi nel tempo o la creazione di macchine a movimento perpetuo. Inoltre, il principio dell'interesse quantistico suggerisce che l'accumulo di energia negativa porta alla generazione di massicci impulsi di energia positiva, annullando l'effetto desiderato. Nonostante queste sfide, la ricerca sull'energia negativa continua a ispirare gli scienziati. Sebbene non ne comprendiamo ancora a pieno la natura, il suo studio potrebbe avere un impatto rivoluzionario sui viaggi spaziali e sulla produzione di energia, superando la luce, attraverso il viaggio nel tempo. Il viaggio nel tempo implica spostarsi nel tempo anziché superare la velocità della luce. Secondo Einstein, il tempo e lo spazio sono intrecciati nello spazio-tempo. La gravità piega lo spazio-tempo e influenza la traiettoria degli oggetti e il flusso del tempo. Viaggiare nel futuro sarebbe teoricamente possibile avvicinandosi alla velocità della luce o di oggetti massicci, rallentando il tempo per il viaggiatore. Tuttavia, viaggiare nel passato è più complesso e richiederebbe curve temporali strette. Alcune soluzioni delle equazioni di Einstein suggeriscono la possibilità di viaggiare nel passato, ma queste soluzioni sono specifiche e richiedono condizioni particolari. Inoltre, il viaggio nel passato presenta problemi come violazioni della causalità e paradossi. Alcuni fisici propongono che la meccanica quantistica e il principio di autoconsistenza della non ubiquità, potrebbero evitare questi paradossi, ma si tratta di ipotesi e molti fisici sono scettici. Si prevede che una teoria della gravità quantistica fornirà risposte più chiare sulla fattibilità dei viaggi nel tempo. Il concetto di viaggio nel tempo solleva interrogativi affascinanti sulla realtà, sulla causalità e sulla natura del tempo da una prospettiva scientifica e filosofica.